Abbiamo proceduto tra venerdì e lunedì al secondo giro di screening presso le scuole primarie e secondarie di Monbaroccio. Abbiamo voluto dare quella continuità che serviva al primo screening che abbiamo fatto intorno alla metà di gennaio per capire insomma qual era lo stato dell'arte e quale fosse la foto di questi ragazzi che purtroppo si trovavano in parte anche in quarantena perché sulle cinque classi che abbiamo nella scuola primaria la prima e la quinta erano in quarantena e successivamente è andata in quarantena anche la quarta elementare. Pertanto volevamo capire come stessero i ragazzi e le ragazze e la quarantena è scattata per una positività di un insegnante. Abbiamo dovuto suddividere gli screening quindi in tre fasce, quelli che frequentavano la scuola potevano farli in palestra come nella precedente situazione mentre coloro che erano in quarantena li abbiamo sottoposti il tampone tramite un drive esterno che è stato fatto venerdì dopo i tamponi in palestra nella seconda mattinata per la prima e la quinta elementare mentre abbiamo dovuto fare quelli di quarta elementare il lunedì sempre col drive anch'essi in quarantena appunto e affronta appunto dalla distanza di dieci giorni prevista dall'istituto della sanità. E' andata bene perché fortunatamente i ragazzi erano tutti negativi e abbiamo dato la possibilità di fare lo screening anche i genitori cioè coloro che accompagnavano i ragazzi durante il drive e lì è venuto fuori una positività pertanto un bambino purtroppo dovrà continuare la quarantena con la propria famiglia. Siamo soddisfatti del percorso e adesso massima attenzione nel rispetto di tutte quelle che sono le normative da rispettare mascherine, igienizzazione, distanze ma soprattutto massima attenzione perché vorremmo capire come e se si proporranno queste varianti che ci preoccupano e quindi avanti così le scuole sono sicure e speriamo che rimangano tali. Mi permetto anche di dire che lo screening è stato fatto naturalmente a tutte le insegnanti e gli insegnanti a tutto il personale scolastico e a tutti coloro che gravitano intorno al mondo della scuola un grazie per la collaborazione alla polizia locale e anche al gruppo di AMS che sono l'Associazione Nazionale Polizia di Stato in Congedo che ci hanno permesso in particolar modo nel drive esterno di salvaguardare la sicurezza e ordinare i flussi delle autovetture che gravitavano intorno alla scuola appunto per i tamponi che abbiamo fatto nella posizione esterna quindi un grazie a tutti coloro che hanno collaborato e un sempre grazie alla scuola.